I tuoi occhi sono la tua finestra sul mondo. La vista non è semplicemente uno dei cinque sensi, ma ti permette di ricevere la maggior parte delle sensazioni dal mondo che ti circonda. Alcune attività possono affaticare la vista. La soluzione è chiara. Mirtillo. Luteina da calendula. Il mirtillo e la luteina di origine vegetale, estratta dalla calendula, provengono dalle coltivazioni sostenibili Nutricert. La natura incontra la scienza. Nutrilite controlla l'intero processo, dal seme all'integratore, garantendo la massima qualità degli ingredienti contenuti nei suoi prodotti. Tutto questo senza conservanti, coloranti, aromi o dolcificanti artificiali. I tuoi occhi sono la tua finestra sul mondo. Fai sì che i tuoi occhi vedano ciò che più conta per te. La scelta ovvia per una vista ottimale.